Bella raga qui Danny Frey, benvenuti in questo nuovo video ma prima che vi lascio al video vero voglio dirvi che questo episodio non è uno dei più emozionanti o pieni, riempiti di cose degli episodi che ho fatto perchè l'ho registrato circa mezz'ora un'ora fa si, un'ora fa e appunto è sera sono stanco perchè ho studiato la maggior parte di oggi e perchè questa settimana c'ho gli esami quindi spero che questa cosa non vi dia molto fastidio che questo episodio non è super emozionante e vi prometto che dai prossimi episodi cioè quando avrò finito gli esami i miei video saranno più costanti perchè appunto avrò più tempo perchè sarà estate ufficialmente per me e in più perchè appunto avrò più tempo fra le mani potrò fare più cose durante il giorno e niente ora vi lascio al vero video bella raga qui danifra benvenuti in questo nuovo episodio di let's play e guardate che ho trovato un gatto della giungla ocelot come si chiamano minchia mi hai chiesto 5 pesci cosa sai? grigio bianco gli occhi azzurri andiamo ti porto a casa e sono proprio qui dietro alla mia XP farm dove ho fatto questa piccola casa un po' strana l'ho fatta così perchè uno è semplice per me per salire ed entrare e poi anche uscire e tu ti sei appena teletrasportato vero? e poi quando sono qui dentro posso attaccare mob senza venire ucciso e se esplode un creeper non rompe nessun blocco perchè sono nell'acqua cioè lui sarebbe nell'acqua e quindi è il modo migliore di creare un piccolo rifugio lì che mi è venuto in mente e vediamo se il nostro gatto si teletrasporta fino qua eccolo qui e lo portiamo in casa vediamo se ci segue e... vieni? mi giù? ah eccolo lì facciamo lo sedere seduto ok un altro cambiamento che voglio fare al più presto è iniziare a fare i muri perchè avere questo muro così non mi piace molto e quindi voglio iniziare a lavorare di più sulla mia casa però prima di passare a quello voglio aggiustare una cosa un errore che avevo fatto nello scorso episodio cioè quello della nostra del nostro sistema per fare gli incantamenti gli incantesimi ecco non me la ricordo mai la parola lo sapete per ora e quello che non ho fatto che mi avete detto voi è che dovevo mettere le bookshelf negli angoli in tutti e quattro gli angoli e così sarei stato capace di prendere i livelli alti quindi ora facciamo un test e dovrei sì ecco potete vedere prendo i livelli 40 quindi sì abbiamo i livelli massimi quello che voglio fare qui è creare una specie di entrata così che poi posso usare come entrata un po' diversa perché non andrò sopra ma starò sotto perché voglio anche magari mettere un blocco qua o fare qualcosa per chiudere quindi voglio fare il pavimento in half slab così tutto intorno no questo è sbagliato ok e intorno qui sul contorno sì poi tolgo quel carbone che è in più lì mettiamo legno normale così e meno male che me ne sono portato un bel po' e se come lo prendo ma così ok e se vi state chiedendo perché ho del vetro con me è perché andremo a fare una modifica alla nostra XP farm ed è solo una modifica visuale non cambierà niente e quello che faremo sarà creare praticamente uno schermo un posto da dove possiamo vedere uno dei due spawner quello più in alto per essere precisi così che potremo vedere che ne so gli zombie che vengono che vengono fatti muovere dall'acqua eccetera eccetera e lo faremo di qua e faremo anche dei cambiamenti qui perché voglio rendere il tutto un po' più bello quello che voglio fare per prima cosa è tirare via questo muro e questa colonna che sono terribili insieme e fare così così abbiamo questa salita migliore questo è un tubo che avevo fatto per per controllare il mio mob spawner e quello che voglio fare qua poi sarà mettere delle scale che possiamo fare anche subito visto che ho una crafting bench con me e se sentite il rumore di qualcosa si ci serviranno solo 4 anzi 3 ma vabbè è perché la mia la ventolina sulla mia carta video sta dando i numeri e non so perché faccio tutto questo rumore così all'improvviso e quindi è quello probabilmente il rumore che sentite e oltre a mettere ops proprio al momento ho sbagliato dovevi cadere voglio mettere quella lì così anche se cadranno qua avrò anche un modo per cliccare e utilizzare una crafting bench però poi me ne servirà un'altra quindi la crafto subito e una volta fatto questo voglio spostare questa torcia insieme anche all'altra che ho con me e metterle in quei due angoli lì così da avere una illuminazione un po' differente e qui metterò il vetro che ho ed è un quadrato di 3x3 quindi sono 9 blocchi precisi e avremo così una visuale qua sul nostro mob spawner per non creare nessun problema con l'illuminazione e cose del genere quello che farò sarà un muro d'acqua possiamo chiamarlo e visto che ho questa scala in più voglio utilizzarla in qualche modo la metto al contrario la uso come blocco vedete cosa si fa con l'intelligenza? no veramente no e quello che voglio fare è appunto un muro d'acqua che sarà qui quindi tre cose d'acqua così che toglieranno tutta l'illuminazione o almeno la maggior parte per chi non lo sapesse l'acqua quando c'è un blocco pieno d'acqua toglie tre livelli di illuminazione quindi un buon numero di di illuminazione e questo non causa così l'illuminazione da queste torce qua non causerà nessun problema a questo move spawner di spawnare perché la luce o il livello di luce è comunque più basso di 7 o non mi ricordo se non sbaglio i mostri spawnano dal livello 7 in giù quindi non ci sarà nessun problema con quello e ora vi sto dando fastidio con tutti i click che faccio per ucciderli e quello che farò adesso sarà giusto fare un po' di abbellimenti quindi voglio togliere tutto questo blocco di cobblestone perché è praticamente tutto fatto di cobblestone qui e voglio fare qualcosa di più bello facendo tipo delle linee di di questi stone brick che mi piacciono molto li uso in molte costruzioni vediamo di non incastrarci nell'acqua ok e qua potremo comunque passare così senza nessun problema e non ci dovrebbe essere nessun problema ma una cosa che non mi piace è che qua dobbiamo saltare per poter passare quindi prenderò un cartello e lo metterò qui così a cavolo metto quello lì e adesso togliendo il cartello posso passare anche senza avere l'acqua che viene da queste parti e mi allaga tutto e ora facciamo una linea anche qua e come avevo promesso lo scorso episodio oggi andremo al nether quando siamo appena arrivati al nether la prima cosa che dovremo fare sarà andare a cercare un castello del nether quelli fatti con i nether brick non so quanti di voi capiscano ma penso che abbiate capito e se sentite che la mia voce è un po' calma in questo momento perché sono le 10 e un quarto di sera e domani io avrei il primo dei miei esami cioè il tema non molto difficile ma vabbè e quindi non voglio neanche svegliare i miei genitori o mio fratello più che altro perché lui è l'unico a dormire i miei dovrebbero essere ancora svegli forse e quindi non parlo molto folte sì folte sono cinese ora e quindi non parlo molto forte e penso che sia abbastanza bello così forse anche se non ho molti brick con me mi converrebbe fare qualcosa del genere e magari anche di qua vediamo sì ho della stone perfetto posso prendermi non so cosa era il bottone per cosa ma vabbè l'ho buttato e posso fare così per arrivare lì ok c'era della gravel così a caso e vediamo di qua mi manca quel pezzo ecco e vediamo dove possiamo usare questi ultimi quattro qui no qui no qua abbiamo fatto tutto qua pure davanti alle ceste ecco e sto usando la mia picca con efficienza 4 anche se non ve l'ho mostrata perché vabbè mine è molto veloce e la sto usando solo per quello perché non è la miglior picca di sempre ma vabbè e ora senza nessun indugio andiamo al nether e vediamo di combinare qualcosa di bello però prima di andare voglio fare un controllo per vedere se ho tutte le risorse che mi servono per andarci perché vorrò costruirci o anzi vorrei costruirci speriamo di parlare esatto una casa lì perché poi voglio farci uno storage di tutte le cose che si possono prendere al nether quindi che ne so nether brick la nether stone come cavolo si chiama questa qui ecco il nether rack perfetto adesso so il nome e quindi mi servirà un po' di legno un po' di più di legno delle torce anche se non ne ho molte qua c'è della pietra non so perché e prendiamo le altre così e voglio fare anche il rifornimento di cibo alla nostra fattoria di meloni e non so perché c'è tutta questa stone qui dentro ma visto che ci sono la prendo non ho molto spazio nell'inventario ma vabbè questo può stare giù i secchielli me ne porto due non si sa mai anzi uno magari prendere un po' di lava anche se ne ho già qui sì ne ho troppi secchielli non so perché ne ho così tanti ma vabbè e cos'altro le dovrei portare delle ceste questi non mi servono vediamo qui dentro cos'ho materiali un altro secchiello di lava ma che cavolo quanti ne ho e vediamo carbone non mi serve o forse sì no non mi serve torcecele ho facciamo rifornimento di cibo cobblestone per costruire ne ho tre stack quindi siamo a cavallo prendiamo questa stone qui no questa stone questo questo melone ho appena chiamato il melone pietra ok va bene e non sto a prendere le zucche perché non mi servono per ora e quello che voglio fare adesso è andare direttamente al nostro nether vediamo se è notte facciamo venire il giorno e voglio anche controllare una cosa siamo in difficoltà normale ok perché voglio trovare un po' di blaze e magari un castello del nether per prendere delle nether world per le pozioni e poi fare anche rifornimento di glowstone e cose del genere per poi fare altre cose in casa mia perché mi servirà molto a glowstone per l'illuminazione dei spawner e di casa mia perché voglio fare delle glowstone lamps che sono quelle fatte con 4 pezzi di redstone e un pezzo di glowstone e magari se mi capita prendo anche un po' di golden nuggets uccidendo questi nostri come si chiamano pigmen si però mi sa che non ho l'armatura ok vabbè non importa dovrei tornare indietro e farmela ma vabbè per ora andrò alla ricerca di un lagga un po' alla ricerca di un castello del nether e tornerò subito da voi quando l'ho trovato perché non vi voglio annoiare con me stare a ricercare per un diavolo di castello perché so che sono abbastanza rari nella nuova versione sui nuovi nether generati quindi torno subito a voi appena ne ho trovato uno e ovviamente dovevo morire ero nel nether stavo provando a cercare uno dei appunto castelli di cui vi parlavo e sono morto per colpa di un cast che mi ha colpito tre volte di fila e io non me ne sono accorto e le uniche cose che sono riuscito a recuperare sono appena tornato dal nether di nuovo mi sono fatto una spada in caso sono state la mia picca fortunatamente quella di diamante il mio melone una parte molto piccola cinque torce e del del legno e della cobblestone che non è molto meno male che non avevo molta xp addosso e che non l'ho cioè che non ne ho spercata nulla andando e morendo nel nether quindi quello che voglio fare adesso è uno costruirmi una armatura che almeno mi potrà proteggere un po' dai ghast e da eccetera eccetera e la cosa peggiore è che io stavo tornando dal nether cioè non stavo tornando stavo tornando dalla strada che ho fatto per andare a cercare un castello che sfortunatamente non ho ancora trovato quindi dovremo lo farò mentre non sono non sto registrando e quello che voglio fare adesso è andare al nether e creare una piccola base giusto per ora proprio piccola piccola giusto per mettere un paio di chest e cose del genere e andiamo in fretta prima che qualche zombie infiammato prova a venirmi o anche quel creeper laggiù che c'era provano a venirmi addosso e farò giusto una cosa piccola piccola intorno al mio portale eccolo lì quello è proprio il ghast che mi ha ucciso e io sto andando da quella parte là perché per cercare il castello uh guarda che lo becco oh no per cercare il castello sono andato di qua e ho lasciato una scia di torce e quando sono tornato indietro stavo provando ad andare di qua per per appunto provare a vedere se c'era un castello da questa parte e questo ghast mi ha ucciso e sono tornato un bel po' dopo perché sono rimasto male che sono morto e quindi le mie cose non sono più qua ovviamente e l'unica cosa che erano rimaste erano appunto la la picca quella di diamante delle torce e questo poco melone che sto già consumando in fretta e quindi non voglio rischiare ancora e voglio farmi prima una casa così potrò poi essere sicuro qui dentro e quanto l'ho fatta 1, 2, 3, 4 5, 6, 7, 8 voglio mettere dei blocchi qui dietro per bloccare qualsiasi mob dall'entrata e dal dietro 8 e voglio fare 9 quindi 4 anche di qua ecco così e ora costruiamo su e ovviamente l'unico stack di cobblestone che ho con me non basterà per nulla e voglio farla così visto che l'ho fatta molto grande da questa parte voglio renderla più piccola nell'altro senso e lascerò il terreno di netherrack perché mi piace come si fonde con la cobblestone perché non lo so ha qualcosa di bello che lo rende non so non so è qualcosa nella mia testa che mi dice lascialo così e qua al centro voglio fare una porta sì quindi prima di tornare indietro per farmi per prendermi altra cobblestone voglio fare così e fare due ceste per ora ok due porte due ceste no vabbè anche due ceste perché mi serviranno anche quelle quindi mi servirà altro legno ecco qua così almeno prima di partire potrò che ne so lasciare la mia picca di diamante qua o cose del genere se vado in una avventura pericolosa e ovviamente dovevo mettere le porte al contrario e anche rompere i due blocchi qui fuori e ecco di nuovo un altro ghast giuro li odio troppo tanto sono il peggior mob nel gioco adesso si offendono e niente quello che farò adesso per appunto non annoiarvi visto che non ho molto tempo perché dovrei anche andare a dormire perché mi devo svegliare presto per l'esame di domani quello che farò nel frattempo che voi vedete questo episodio che caricherò probabilmente domani che è fatevi vedere la data oggi è martedì 12 giugno quindi lo caricherò domani mercoledì 13 probabilmente e intanto collezionerò glowstone per casa mia finirò questa casa per perché alla fine devo solo costruire dei muri non è molto interessante da vedere e niente oltre a quello proverò a cercare un altro un altro un castello del nether se ho la fortuna di trovarlo e ovviamente controllerò che non sia super mega lontano da casa mia perché quando sono andato in quella direzione là dove potete vedere le torce che fanno la strada sono andato veramente lontano e non ce n'era neanche uno se avete qualche consiglio da darmi su cosa posso fare nel nether perché il nether è un po' noioso in minecraft normale e su magari su qualche modo per trovare in fretta un castello del nether potete sempre utilizzare i commenti del video per che ne so aiutarmi o dirmi cosa potrei fare qui dentro e magari come cambiare la casa perché un cubo di cobblestone non mi piacerebbe molto un cubo un parallelepipedo più che altro e la cosa peggiore sarebbe adesso di trovare un castello mentre giro a caso sarebbe la cosa peggiore proprio la cosa più ironica che potrebbe accadere adesso e niente io appunto inizierò a collezionare glowstone perché me ne servirà molta veramente molta e prima di lasciarvi voglio tornare a casa e provare un altro enchantment su una picca questa volta con un livello alto quindi 50 45 cose del genere e quindi ci rivediamo fra qualche secondo ok sapete qual è la cosa più brutta che è appena successa è che mio fratello si è appena svegliato anche se sono le 11 proprio appena io sto per finire speriamo in bellezza questo video mettendo un incantesimo ecco ce l'ho fatta dirlo di livello 47 sulla mia picca ho creato un'altra picca di diamante sperando che mi venga qualcosa di bello quindi speriamo di finire in bellezza ah un'altra oh mio dio ma sono veramente sfigato e ok abbiamo preso un'altra efficienza 4 la metterò nella mia cesta per ora almeno se moriamo e perdiamo questa ne abbiamo un'altra uguale e sto iniziando ad andare basso in diamanti ne ho solo 7 quindi molto probabilmente quello che farò adesso sarà riuscire a prendere un po' di risorse nel nether mi conviene andare dentro perché è notte nel nether come resto e cose del genere e magari trovare un nether fortress ho imparato il nome e poi e poi andare a minare e se avete sentito mia mamma che diceva vai a dormire è perché sono appunto quasi le 11 e non vuole che domani tipo mi sveglio tardi per andare all'esame e quindi prima di salutarvi vi ricordo di lasciare mi piace per rendere il prossimo episodio lungo 20 minuti e di darmi consigli su cosa posso fare nel nether e di come posso trovare un castello del nether più semplicemente o facilmente o come lo volete dire e niente con questo vi saluto oh mio dio ma perché questa cosa è cresciuta proprio mentre ci passo io e niente con questo vi saluto bella raga grazie a tutti